Lei è stato dalla parte dei costruttori e dei concorrenti. Oggi deve venire dalla parte degli organizzatori, perché noi siamo gli organizzatori. Alle spalle abbiamo l'autodoro di Monza e sa che cosa ha detto anche Amanci? Che non è giusto che un autodromo come quello di Monza organizzi una gara al mese. Ma si può con tutti quelli che hanno lì una gara al mese. Quindi devono fare una gara alla settimana. Lei comincia a inventare qualche cosa perché a Monza devono fare qualcosa di più. Presidente, io farò quel che vuole, ma di inventare. Conosce tutti i concorrenti perché ha girato per Ferrari. Si ispiri a questo, noi vogliamo fare più gare a Monza. E Manci dice, beh, viene a lavorare da noi in ufficio sportivo e viene pagato da Monza. E lui dice, no, non lo voglio gravare su Monza. Lui viene a lavorare, si deve lavorare per l'automobile che è Milano. È Milano che deve dare il lavoro a Monza. È Milano. Siamo noi che dobbiamo fare il lavoro. Quindi l'automobile criminali aveva una struttura veramente di grande livello. Quando tu pensi che in consiglio direttivo c'era il marchese Antonio Brivio Sforza, il conto Lurani, Sergio Mantovani, l'architetto Mozzoni che era il marito della Crispi, del Corriere della Sera. C'erano uomini di passione di valore dello sport. Non di brù e dei buratini. Uomini di passione se non di competenza. Dopo 15 giorni mi chiamo ancora Bertè e mi dice ho voluto fare con la Abarth una formula addestrativa perché l'autodromo di Monza deve anche essere un addestramento per i giovani che fanno lo sport. Lei si mette in grado di propormi una formula addestrativa per i giovani e Monza deve fare almeno 10 gare. Nasce l'875 e vado da lui e dico il motore mi è stato contro... perché ero andato dall'Ampredi che già lavoravo alla Fiat mi avevo detto andiamo insieme da Bosato. Bosato dice se devi prendere un motore verticale o orizzontale perché stiamo lavorando sul motore orizzontale della Familiare che forse ti consiglia il motore a soglio. La Formula Monza nasce col motore a soglio. Era chiaro, era bellissimo. Sono partito di lì e mi ha dato questa possibilità di lavorare l'automobile di Milano con vero entusiasmo, con collegamento, perché per un mese mi hanno portato tutti gli uffici dell'automobile di Milano. Grazie. 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 Grazie.